Cartier Tank Solot, un classico moderno dal fascino senza tempo. Il Cartier Tank è un orologio iconico e inarrestabile che ha celebrato il suo centenario lo scorso autunno. La sua storia è intrisa di eleganza, stile e influenza di personalità famose in tutto il mondo. Nel 1917, lui Cartier decise di rompere gli schemi dell'epoca, che vedeva predominare orologi rotondi, e creò il primo prototipo del Tank. Questo orologio rettangolare era ispirato all'aspetto delle autoblindo, della Prima Guerra Mondiale, in particolare al Renault FT, considerato il primo carro armato moderno. Questo veicolo era caratterizzato da una torretta girevole e da gradini a cingoli che sporgevano dai lati dello scafo. Questi gradini avrebbero ispirato le branch card dell'orologio Tank, che fungono da anse per il cinturino. Il Tank è diventato uno dei segnatempo più iconici e ambiti al mondo, testimoniando la sua intramontabile eleganza e il suo design senza tempo. Mentre l'orologio è diventato sempre più celebre, sono nate numerose imitazioni, molte delle quali dotate di movimenti al quarzo. Alcuni modelli, addirittura, sono alimentati da energia solare. Oltre un secolo dopo la sua creazione, l'orologio continua a essere apprezzato e ricercato da appassionati di orologi di tutto il mondo. Le diverse collezioni, tra cui Mast, Anglaise, Louis Cartier, American, Frances e Solot, rappresentano la versatilità e l'adattabilità del Tank, che è un vero e proprio simbolo di classe e raffinatezza. La collezione Cartier Tank Solot si compone di sette modelli differenti. All'interno della linea, questi orologi mantengono l'estetica del primo modello di orologio Cartier Tank con piccole variazioni che lo rendono più moderno e accessibile ai gusti sia maschili che femminili. La referenza W5200025, della collezione Tank Solot, ha una cassa in oro rosa 18 carati e acciaio. La corona è perlata realizzata sempre in oro rosa. Il quadrante invece è opalino argentato chiaro con numeri romani, lancette a forma di gladio e chiusura del quadrante in vetro zaffiro. Il cinturino è in pelle di alligatore marrone, con fibbia in oro rosa o acciaio. Il movimento è al quarzo e l'orologio è impermeabile fino a 30 metri. Grazie a tutti.